Quali che essi siano, per la Costituzione, per la Costituzione, non si possono mettere insieme chi toglie gli argomenti, uno, perché su quello la transversalità è il sacro santo, su altri, non credo che sia, quindi quello di fare in modo di avere un grosso coordinamento nazionale che venga facciato magari da libertà e giustizio, dei dossetti, eccetera, affinché si arrivi a costruire, diciamo così, un'idea di riforma costituzionale alternativa, partito dalla cittadinanza, visto che dentro il Parlamento ci sono queste difficoltà e queste resistenze. Non so come si faccia, non ve l'intento di questo, però noi abbiamo un corpo già esistente, che è un'idea di riforma, quindi è bene questo, per questo, perché ci sia un'onda di riforma contro la quale questi che stanno discutendo su quanto si dovrebbero trovarsi, non è possibile che inizia questo silenzio, tenendo il centro, da subito, perché su questo si stanno già discutendo quando sarà la realità delle altre cose. Non so quanto margine ha, ma qua il problema in questo momento è che dentro ha una sicurezza, che il discorso è ampio, una versata, è un discorso di legalità, è un discorso di democrazia, città dell'istituzione, è un discorso di... L'azienda è un discorso di legalità, però chi lo fa? Subito, subito, tutti coloro che hanno dato il contenuto o nascondendosi o difendendo una riforma che non funziona, devono essere presi, che bisogna che gli si chieda, perché, che cosa tu intendi arrivare, che coerenza c'è, la cosa che hai fatto è quello che intendi fare adesso. Sei nella commissione di lavoro, stai incontrando una delegazione, ti rendi conto che ovunque il tuo operato è fortemente condizionato dal fatto che abballi o hai abballato, intendi abballare una riforma di quel tipo. Cioè, bisogna risvegliare le coscienze dei parlamentari. Il problema è quello di questo. Questo qui, l'abbiamo detto, è l'altra cosa importante che è messa durante questa giornata, molto, secondo me, molto significativa, è, sono da fuori partecipi, è presentare la proposta, cioè la proposta, presentare l'opposizione, l'opposizione della cittadinanza politica, non per conservarsi, no? Non per proteggere qualche guru che deve, o dopo, ma che deve essere, ma per imprendere quelli che sono le nostre errorative democratiche. Quella riforma è brutta, quella riforma è negativa, ne vogliamo un'altra. Dire che c'è la possibilità della riforma migliore, questa è la maggiore possibile. Ma noi la vogliamo, no? Non siamo contrari necessariamente. Il problema è un altro. Per me il positivo dovrebbe essere presentato, non il medico, altrimenti facciamo sempre la parte, i soldi immobilisti, conservatori, questo c'è molto, molto, va molto in modo questo argomento della conservazione, della difesa dei diritti come come conservazione. Quindi fare, provisciare la posizione. E infine, rilanciare per la valore del futuro. Io non faccio così fondamentale per la valore del futuro. Perché solo non si va più a votare. Ma per me si capisce che è un altro efficace e futile. Ma anche le istituzioni stesse stanno in qualche modo funzionale che non vogliono degiuntare per la valore del futuro. Quindi rilanciare il nome proprio del suffragio universale, del diritto di voto dei cittadini che deve essere garantito. Quindi a me pare che questi siano dei tipi fondamentali. la sanno con il sanno che mi pareva che, se si premesse con il gioco qui al caos, che anche ne parlavamo, di fare una specie di documento di manifesto intorno al quale poter riuscire in rapporto con tutti gli altri movimenti o associazioni della società civile per creare questo, chiamiamolo così, questo grande fratello per la costruzione di una proposita della società. Mi sembra che questa giornata deve essere vista come propositiva, no? Dopo gli scorsi credenti. Ecco, condividiamo tutto insomma, abbiamo scritto, detto, via di voi. Si tratta di vedere come mettere in piedi questo movimento. Perché i partiti non ci sono, in questo caso veramente sono assenti, non esistono. Quindi bisogna invece facciare un'azione di supplenza. Diventiamo unione politica, non semplicemente pubblica, generica. Per quasi fare la supplenza dei partiti che non ci sono. Grazie a tutti.